E siamo a Evermonaco 2017 insieme a Alban Sirami che è dell'azienda U-Jet Vehicles. Buongiorno e vediamo un prodotto molto interessante. Grazie. Sì, questo è il nostro scooter, che come puoi vedere è molto diverso da quello che esiste. Il design è molto futuristico, il pezzo è diverso dal Vespa, che conosciuto molto bene in Italia. Abbiamo anche alcuni elementi principali, come come vedete è una scuola che è una scuola che è piuttosto molto leggera. Quindi sarà di 39 e 45 kg, depending sulle le batterie. Abbiamo anche due due batterie. Abbiamo anche sviluppato alcuni stagioni per la scuola che sono all'interno, con molto alta performance. Per esempio, per esempio. La batteria, l'autonomia della batteria è molto buona, comparando con quello che esiste. Abbiamo un'altra batteria, la più grande batteria, che sarà 80 km per l'autonomia. E poi 160 km per la maggior parte della batteria. Quindi credo che sarà sufficiente per usare in una città. Perché è una scuola che è designata per la mobilità urbanistica. Quindi, ovviamente, vogliamo che la scuola sia riuscita in una città. E su un'autonomia quotidiana, 80 km per l'autonomia. E questo sarebbe più che sufficiente. Oltre versioni saranno come un scooter o come un motociclo? Questo è un motociclo. È un motociclo. È un motociclo. È un equivalente a un motociclo 50cc. Quindi, di nuovo, hai bisogno di una licenza di riuscita. In quanto si vengono la macchinata delle riuscite? È una macicliscia di discussinglo. E un moto, è un motociclo, o un moped, come lo chiamano. Quando veniamo a vincitare la produzione? Qui, come vedete, è un dispositivo prototipo. Noi stiamo ancora tenendo un testo. La homologazione è orata. Nel mio obiettivo è di lanciare la produzione a кон l'anno dell'anno, quindi che vedremo il scuotere al prossimo anno in Italia, in Spanio, in Monaco e in Luxemburgo questi sono i paesi che stiamo tagliando e ci sono diversi collaborazioni con diversi compagni di diversi paesi dell'internazionale è vero, è vero, è vero per esempio, ho parlato di tire che è stata sviluppata con una compagni base in Slovenia e anche abbiamo un partner per la batteria in Germania, come è in questo momento e, sì, la maggior parte dei servizi che abbiamo oggi sono da Europa e poi vediamo per la produzione massima ma cercano di ottimizzare la collaborazione in Europa Grazie Albani e possiamo continuare in contatto perché sempre in Electric Motor News ci proviamo di informare delle caratteristiche quindi ci siamo interessati a sapere di più Mi piace, grazie mille